aiuto pura grande idea ecco qui, non ci voglio un applauso ragazzi perché voglio dire al coraggio anche perché ci vuole anche il coraggio per essere così voglio dire esatticenti ma anche se lo spettacolo è spettacolo io prima leggevo le 3% e le persone musicali sono tantissime all'interno di Sia, prego la torrida, Don Ciccio le tue spiegazioni sono tantissime musicali voglio dire che in questi versi sicuramente ci siamo anche vicini allora, abbiamo una parola anche per Andrea e si è così spero che non ti cioè, potevi fare lo spiegarello volendo, ecco perché prima di arrivare come se hai messo soldi passavano l'oretta vedete, ah, oh saltare a tempo di musica prego la mia gentile collaboratrice di darmi la corda che è alle tue spalle Luisa, grazie allora, io spero che Andrea non incianti in tutto questo in tutto questo vestito la corda è questa il cappello lo sai che bisogna toglierlo, eh? ecco, Claudia aiutati guarda a srotolare la corda Alberto io sempre fa una musicina quanto lo facciamo saltare una decina di minuti consecutivamente, eh? ok? allora, a me non c'è non c'è c'è una corda per modo di dire è un po' fatto in casa 3, 2, 1, via! 1, 2, a ah, vai! ti sei già fermato ancora, ancora! se poi cadi guarda mi alzi l'odice della trasmissione e siamo tutti più contenti adesso non lo voglio proprio vedere ahahahah e... tutti insieme! vai! 1, 2, 3, 4, 5! grande! grande Andrea! tu che vieni anche dall'accademia sull'esco, sei andato un po' in basso da lonti, ciao! sto scherzando! io sono molto felato qui a questo concorso è bellissimo è bellissimo è bellissimo percorso e mi ha dato tanta gioia ti ha dato tanta gioia ti ha dato tanta gioia ti ha dato tanta gioia perché non lo stesso hai vinto no! scherzo Andrea perdonami ma siamo tutti allegri perché fai spettacolo ti vogliamo sentire e cantare di Renato Zero in carrozzone applauso all'Andrea Casabianca basta! non ne hai già una è tu non te la sei provata no? ah eccola è lì in caldo basta per Andrea Casabianca Andrea e l'ho potente prima ti ho fatto una presentazione così plateale scusami prego prego tanta gioia è un tremato a fare il montaggio in questo programma che dura 40 minuti durante tre ore in trasmissione e non finisce qui e lo ripeto dai ti è un tremato zero in carrozzone un bel applauso ad Andrea Casabianca grazie 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 un bel applauso a non un bel applauso e nuo Per me si può andare in quel posto. 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 Per me si può andare in quel posto.